Dopo oltre dieci anni siamo riusciti a rinnovare questo contratto tra le associazioni sindacali, quello degli inquilini e quello dei proprietari, che hanno trovato la giusta misura, il giusto accordo all'unanimità per la prima volta e mi dicono anche che è l'unico caso in Italia, mi confermono, che all'unanimità siamo riusciti a completare quest'opera così significativa per le agenzie immobiliari, per i professionisti che devono preparare gli atti di sottoscrizione dei nuovi fitti. Vi è anche una riduzione grazie all'intervento del nuovo contratto nazionale che noi l'abbiamo ricepito del 10% sulla cellula secca, quindi io credo che ci possiamo sentire soddisfatti e abbiamo portato a casa un altro risultato importante per il territorio, per la città di Pescara. Come amministrazione comunale siete sempre al lavoro per le aree disagiate, soprattutto per i tanti residenti di edilizia popolare a Pescara? Il valore poi delle periferie e degli insediamenti popolari deve essere davvero un valore, da disvalore deve diventare valore, quindi anch'io con le mie deleghe, tra l'altro sono la politica della casa, noi ci stiamo battendo proprio perché si possa arrivare anche a degli interventi di riqualificazione, come degli immobili di proprietà dell'Ater, quelli nostri del comune di Pescara sono in parte, se non la totalità, tenute nella massima considerazione. Ecco, tutto questo serve per dare anche una continuità ed un'omogeneità di trattamento in tutta la città.